In Belgio l'attenzione delle autorità e della comunità internazionale focalizzata sull'attività terroristica di matrice jihadista nel paese e soprattutto sul rischio di radicalizzazione dei giovani. Euronews ha incontrato il ministro francofono belga Rashid Madrane responsabile dell'aiuto alla gioventù e delle case di giustizia per parlare di come si possa favorire i processi di deradicalizzazione. Oggi in Belgio è la prima volta in cui al potere abbiamo un partito di maggioranza che è populista, nazionalista e di destra estrema. Non dico estrema, destra, ma destra estrema. E dunque ha una visione del mondo che è una visione ultraliberale. in cui l'aspetto umano non è altro che una variabile. Io ho una visione da socialista internazionalista, universalista e loro hanno una visione nazionalista e confederalista in Belgio. Quindi vogliono l'ascissione, la fine del paese. È possibile deradicalizzare un individuo? In altre parole, c'è un modo per deradicalizzare un giovane. Non c'è una ricetta miracolosa, non esiste una bacchetta magica contro l'estremismo violento qui nel Belgio francofono. Abbiamo costruito dei modelli che intervengono di più sulla prevenzione per allontanare la violenza, ovvero come facciamo a permettere a qualcuno di uscire da un percorso sbagliato o da una traiettoria verso la delinquenza. Questi sono gli aspetti sui quali stiamo lavorando. L'NWA del Governo federale non ha fatto altro che lavorare sulla sicurezza. Questo vuol dire che mettiamo dei soldati per le strade, polizia, ma non andiamo ad intervenire sul problema all'origine. Secondo lei la discriminazione positiva può rappresentare una soluzione contro il razzismo? Abbiamo predisposto una norma che dà la possibilità di impegnare quelle persone che vengono dai quartieri dove il tasso di disoccupazione è più alto per evitare un sistema di quote per etnia. Dunque ci basiamo su dei parametri geografici che permettono a tutti quelli che cercano lavoro, che vivono in un certo posto dove il tasso di disoccupazione è superiore o uguale alla media regionale, che cercano un lavoro, di essere selezionati in modo prioritario per gli impieghi pubblici. Questo sta dando dei risultati e vediamo che grazie ai dispositivi di cui disponiamo, che la disoccupazione tra i giovani con meno di 25 anni è diminuita e sta diminuendo da circa 60 mesi senza interruzioni.